Noi abbiamo pensato che fosse molto interessante partire con i giovani, con gli adolescenti e soprattutto nel loro ambiente più naturale che quello della scuola. Allora noi abbiamo pensato che sulla scorta di quanto era evidente da studi effettuati in altri paesi, soprattutto paesi scandinavi, fosse interessante andare a vedere qual era la frequenza del mal di schiena negli adolescenti di 16-17 anni, studenti di un liceo e poi di fare loro dei corsi delle lezioni sotto forma di divulgazione scientifica su alcuni aspetti inerenti, la colonna vertebrale e il movimento, cioè l'anatomia, la fisiologia, la biomeccanica, la composizione cellulare, l'immunologia e poi elementi pratici di posturologia e di esercizio. Noi abbiamo somministrato due questionari, uno sulla prevalenza, la frequenza del mal di schiena negli adolescenti e poi questo questionario conteneva altre richieste di informazione di tipo anagrafico, anche delle attività che svolgono, le attività sportive, attività anche ludiche e poi abbiamo somministrato un altro questionario di qualità di vita. Ecco, poi da questi elementi abbiamo potuto dedurre che la frequenza del mal di schiena è sorprendente, sorprendente ma in linea con quanto risulta da studi precedenti compiuti al di fuori dell'Italia. Cioè nel nostro studio si dimostra che gli adolescenti che abbiamo interpellato di 16-17 anni, la prima scuola è stata un liceo classico di Venezia, il 67% soffre o ha sofferto di mal di schiena, quindi vuol dire che solo circa il 30%, 33% non ha mai sofferto di mal di schiena, quindi questa è una frequenza molto molto importante. L'impatto sulla qualità di vita è importante, soprattutto nel sesso femminile e quindi questo c'è anche una buona correlazione con la presenza di mal di schiena. Noi non possiamo da partire da questo studio stabilire delle cause precise, non è stato possibile, è presumibile che il mal di schiena più frequente, cioè quello che poi regredisce in tempi non lunghi, perché l'altro tipo di mal di schiena è quello cronico, non quello ricorrente, è probabile che in questo entrino in gioco alcune cause come per l'adulto di tipo posturale, di tipo ergonomico, di tipo anche delle abitudini quotidiane. Dal punto di vista dell'approccio terapeutico pensavamo peggio in realtà, perché negli adulti il ricorso alle antifiammatorie e all'osteroidei è molto più elevato come farmaco di primo impiego per il dolore muscolo scheletrico, incluso il mal di schiena, la lombalgia. Invece nei ragazzi vediamo che prevale, sia pure di poco, il paracetamolo e questo è un atteggiamento giusto. Ci auspichiamo e noi facendo lezioni ai ragazzi, facendo educazione, abbiamo indicato proprio questo che il farmaco di primo riferimento deve essere l'analgesico, il paracetamolo che è più sicuro, poi se questo non funziona si fa ricorso da altri strumenti terapeutici e anche altri fans. Per cui adesso si può dire che quasi la stessa percentuale di soggetti assume il farmaco antinfiammatorio, il paracetamolo, però negli adulti prevale nettamente l'antinfiammatorio. Quindi troviamo che già probabilmente c'è una maggior consapevolezza nei ragazzi rispetto ai loro genitori, ai loro nonni, che è preferibile in prima linea adoperare il paracetamolo. Io credo che questo sia un merito che spetta ai pediatri che hanno indicato la logica di un certo tipo di atteggiamento. I risultati dello studio sono stati estremamente interessanti, tant'è che abbiamo deciso di presentarli al congresso di reumatologia che si è svolto recentemente a Londra. Ovviamente l'interesse si è anche manifestato da parte di altri colleghi che ci hanno chiesto di portare avanti loro stessi o col nostro aiuto questa divulgazione scientifica e questa attività educazionale in altre scuole del Veneto e anche fuori dalla regione del Veneto, in particolare la prossima tappa sarà quella di Matera in Basilicata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!